Ad Etna Comics troviamo il nostro aglio buon accorso e intanto come sta andando? C'è tantissima gente. Sta andando veramente molto bene, è una delle fiere più grandi d'Italia all'altronde. Sì, ormai è un appuntamento importante per tutti gli appassionati in Italia. E tra l'altro questo è un angolo un po' messinese, diciamo, a volte a te c'è anche qualcun altro che adesso ci presenti. Sì, Gianluca Bugliotta che mi chiamiamo Pagolega. Gianluca in realtà sta facendo quello che non ci sto facendo fare adesso, cioè oggi tu sarai qui ad incontrare i tuoi fan e anche a... Sì, ovviamente questa area qua si chiama Artista, è una cosa che è stata importata dalla diretta di St. Unite. Ovviamente si vendono stampi originali, disponibili su commissione e insomma dove i lettori possono incontrare il disegnatore. A che cosa stai lavorando? Ci puoi dare qualche anticipazione? Allora, sto facendo, dunque, sto offrendo un libro per bambini che è l'immigrazione spiegata ai bambini, che uscirà verso settembre. Poi sto lavorando su reportage che ho fatto in Sinai, io sono stato per 40 giorni e al momento ho questo. E poi altri progetti vediamo in Francia. Noi ti seguiamo insomma da sempre e abbiamo sempre detto che ci piace di te il fatto che riesci ad affrontare degli argomenti pesantissimi se vogliamo utilizzare questa parola, ma con la leggerezza del fumetto e quindi il tuo messaggio arriva sempre forte, chiaro e credo che questo sia anche il perché hai tanti fan, tante persone che ti stimano. No, grazie. Sì, beh, il fumetto è un mezzo più facile rispetto a quello che può essere un libro, cioè un discorso di testo. È immediato, può trattare varie immagini, perché le immagini sono riconosciute, ma poi non riconosciute, non riconosciute. Io ho trattato tempi pesanti, mi leggeri, ma comunque sempre nell'immediatezza della comunicazione. Ok, ciao Lelio. Buona fiera.